Parliamo di sport, una buona notizia per il nuoto bergamasco della Valseriana. In particolare, dopo il doppio oro nei 100 e nei 200 rana ai campionati italiani giovanili, per Dario Paganessi ora arriva anche la prima chiamata in azzurro. Il sedicenne di Parre, atleta della Radici Nuoto, è stato convocato per un breve collegiale con la Nazionale Juniors. In programma a fine ottobre Dario comincerà a conoscere i suoi nuovi compagni. e al termine parteciperà, sempre con la squadra azzurra, ad un meeting a Vicenza. Per lui l'obiettivo di questa stagione è soprattutto riuscire a realizzare il tempo necessario per qualificarsi agli europei juniors. A Dario, oltre ai complimenti, facciamo un grosso in bocca al lupo.